I 6.000 iscritti, siamo 6.000 fottutissimi iscritti, allora ogni speciale vi ringrazio per gli iscritti ma stiamo sempre crescendo di più, vi ringrazio di cuore, non me l'aspettavo questo successone e ogni volta lo dico più immensamente tutto, quindi oggi ho deciso ovviamente per ringraziarvi di soffrire, di farmi del male fisico, quindi cosa ho preso? Ho preso delle bustine di papa per gatti, una di manzo e una di pollo e ho deciso di mangiarle per voi, allora lo so faranno parecchio schifo, voi direte che sono pazzo e tutto, è vero sono pazzo ma se l'avete notato solo adesso, allora ero già pazzo in passato e tutto, quindi iniziamo con quella di pollo, voglio iniziare in fretta così finisco ovviamente in fretta, allora iniziamo, questa qua è quella di pollo, vedete, apriamo, mamma mia, già mi viene nella nausea solo a pensare, mamma mia che odore ha, che cazzo è sta roba, che è solo all'odore, vabbè, te la lasciamo, dettagli, questa, ok ragazzi, ho deciso di farlo solo per voi, ho deciso di fare sta roba, mamma mia, c'è il mio gatto che mi sta guardando, minchia, che roba, oddio, 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 vedete benissimo vedere mamma mia che roba ragazzi che roba è assurdo ma è proprio guardate è assurdo sta roba che schifo ragazzi però che schifo allora iniziamo ad aprire quella di pollo pollo apriamo anche sta roba che schifo no ragazzi guardate no questa roba me la dovete spiegare solidissima guardiamo guardiamo c'è solidissima sta roba come fai a mangiarla Giorgio? non ho ancora capito voi gatti piacciono ragazzi mi sa che qui stanotte vomiterò duro per coprire un po' il sapore prendo un po' di pane ci vediamo dopo ok ragazzi ecco il pane mamma mia appunto allora sapevo che non mi sarebbe piaciuto ma non sapevo fino a questo punto avete capito? è quello il problema che cos'è sta cazzo di roba? è merda disgustata non lo so neanche quelli di two girls one cup fanno sta roba non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è c'è il mio gatto ciao Giorgio che sta mangiando le cose che sono cadute per terra avete capito? il suo cibo qui ho le altre ok ragazzi che schifo non c'è 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 un po' Grazie. Ragazzi, mi sta per venire da vomitare. Già se metto sto video su YouTube è un miracolo che non sono morto prima. Che schifo. Perché questa roba mi fa fare? Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Vabbè, lasciamo perdere. Che schifo. Che schifo. Grazie. Ok ragazzi, allora per il pollo può stare così, ancora a manzo, sempre più schifoso, che roba ragazzi. Grazie. Allora, due bustini di sferogi qua, sono, no, tre bustine, anzi tre. Sono 200 calorie, quindi abbastanza dietetiche, così non ingresso neanche. E adesso mi sta venendo un po' da vomutare, quindi basta. Comunque l'ho mangiata, l'ho mangiata ve lo posso garantire. Allora, vi ringrazio ancora moltissimo per i 6K, non me l'aspettavo. Scrivetemi su Ask, che vi metto ovviamente il link nell'info box. Scrivetemi anche su Facebook, che vi metto nell'info box. E scrivetemi soprattutto nella mia video di fan, quella sempre nell'info box. Che dire, questa qua era la sfida 6K, un traguardo eccezionale. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!